...inclusi, presto in aggiornamento. Attenzione. Sei tra gli ultimi venticinque, bel lavoro. C'è attività nemica. Hanno saccheggiato quest'area. Soldato nemico in arrivo. Vai! Bastardi. Vai. Bello l'audio. 3D. Eh? Nelle cuffie si sente l'audio... ...3D, nel senso... ...si capisce se è una persona vicina o no. Identità dei bersagli confermata. Eliminatela. ... 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